I lavori di demolizione del dismesso inceneritore di San Raineri dovevano iniziare già a fine marzo. A un mese di distanza, nonostante gli annunci dell'Università che è coordinatore del patto per la falce, il programma di riqualificazione della zona falcata, mancano ancora i fondi statali per dare il via libera alle opere. L'assessore regionale all'energia, Vania Contrafatto, sottolinea che la contabilità speciale dello Stato per il finanziamento è bloccata da qualche mese. A marzo si era riunito all'Università di Messina il tavolo tecnico istituito proprio nell'ambito del patto per la falce. Erano rappresentati l'assessorato regionale ai beni culturali, quello a territorio e ambiente, quello all'energia, il comune di Messina, l'autority portuale e l'Ateneo che avevano sottoscritto l'accordo a Palermo il 26 gennaio. A quel tavolo i rappresentanti dell'assessorato regionale all'energia avevano dato comunicazione. eravamo a marzo che entro 15 giorni sarebbero stati consegnati lavori di demolizione dell'inceneritore di San Raineri. Ma trascorso oltre un mese e mezzo da quella riunione tutto è ancora fermo.